buongiorno a tutti e ben ritrovati oggi ci troviamo in una località caratteristica nel cuore delle colline del prosecco di conigliano valdobiadene ovvero a san pietro di feletto che fa parte di uno di quei 15 comuni della cosiddetta core zone cioè la zona centrale appunto di produzione del prosecco di ocg alle mie spalle vedete un paesaggio che è davvero stupefacente e ci sono i colori autunnali che ancora per poco possiamo tutti ammirare e proprio dove mi trovo io oggi circa 70 anni fa c'è stato un personaggio molto importante per la nostra storia che era un abitudinario di queste zone che solleva appunto passeggiare proprio qui di chi sto parlando di papa giovanni ventitresimo e cosiddetto papa buono come vedete alle mie spalle c'è il busto di papa giovanni ventitresimo e ci troviamo poi nella via che il comune di san pietro di feletto ha appunto a lui dedicato cosa possiamo dire di questo grande personaggio innanzitutto nacque nel 1881 a sotto il monte in provincia di bergamo da una famiglia di contadini quindi una famiglia molto umile nonostante questo già nel 1904 venne ordinato sacerdote divenne presto segretario dell'allora vescovo di bergamo monsignor tedeschi nel 1925 divenne egli stesso vescovo e proprio per le sue qualità comunicative e anche oratorie venne appunto inviato a diffondere la chiesa cattolica prima in bulgaria e successivamente in turchia nel 1953 diventa invece cardinale successivamente sarà patriarca di venezia ed è proprio in questo periodo cioè dal 1953 al 1958 che papa giovanni ventitresimo al secolo angelo giuseppe roncalli decide di venire qui a san pietro di feletto per trascorrere periodi di meditazione per passeggiare per ammirare appunto il paesaggio circostante ci troviamo in questo momento all'inizio del percorso naturalistico che il comune di san pietro di feletto ha voluto appunto dedicare a papa giovanni ventitresimo è stato ricostruito grazie ad una serie di documenti ufficiali sottoscritti proprio dal suo segretario personale ovvero il cardinale loris capovilla e si tratta di un percorso molto facile anche piuttosto breve sono infatti quattro chilometri tuttavia la sua brevità non rende meno affascinante il paesaggio che si può ammirare appunto percorrendo questo anello ci troviamo infatti sul colle più alto del feletto e da qui è possibile ammirare appunto tutto il paesaggio circostante decodedone appieno appunto di quello che può offrire a soli tre mesi dalla sua elezione al soglio pontificio avvenuta il 25 gennaio del 1959 papa giovanni ventitresimo stupì tutto il mondo infatti a differenza di quanto i suoi elettori credevano ovvero che sarebbe stato una persona accomodante un papa quindi molto gentile e dalle poche pretese in realtà appunto indisse il famoso concilio vaticano secondo tra le intenzioni di questo papa c'era appunto l'idea di una chiesa completamente diversa più moderna infatti tra le modifiche più importanti che gli stesso apportò in questo concilio ci fu l'eliminazione del latino che restava comunque la lingua principale della chiesa ma le funzioni quali la messa o altre celebrazioni o le comunicazioni del papa stesso sarebbero avvenute nelle varie lingue vernacolari appunto del di tutti i paesi credenti questa fu davvero un'innovazione importantissima e che giunse a 90 anni dopo il primo concilio vaticano chissà che giuseppe roncalli passeggiando proprio in queste zone e venendo a sedersi proprio in questa panchina dove c'è alle mie spalle vedete questo piccolo roccolo non abbia trovato l'ispirazione e l'idea di volere una chiesa diversa più vicina ai giovani ma anche alle persone una chiesa che potesse quindi entrare nel cuore di tutti le testimonianze sul soggiorno in questi luoghi di papa giovanni ventitresimo sono davvero innumerevoli tra le più curiose che ho trovato c'è quella appunto rivolta e dedicata ad una bambina del luogo questa clelia questa piccola appunto bambina che si racconta di questo incontro appunto con angelo giuseppe roncalli in cui le si rivolse complimentandosi con i suoi occhi vispi la cosa divertente che ricevette in cambio da questa bambina lo stesso complimento perché questa piccola gli si rivolse dicendo appunto anche tu hai degli occhietti molto vispi lungo tutto il percorso avrete la fortuna di godere di scorci veramente mozzafiato su tutto il paesaggio felettano per esempio alla mia sinistra anche se nascosta dagli alberi c'è la dorsale di manzana con sulla sommità la chiesa di formeniga chiesa dedicata a san pancrazio invece alla mia destra vedete le colline sia di tarzo che del vittoriese e alle loro spalle si intravedono le prealpi trevigiane anche se c'è qualche nuvola e purtroppo oggi non sono ben visibili tra queste ricordiamo il col visentin la val la pisina il monte pizzoc e il consiglio tra i luoghi più amati da papa giovanni ventitresimo c'è sicuramente l'antica pieve di san pietro di feletto questa chiesa molto antica tra le più antiche dell'intera diocesi conserva e sono visibili degli affreschi datati tra il tredicesimo secolo e il quindicesimo da qualche anno all'interno di questa chiesa è addirittura conservata una reliquia di angelo giuseppe roncaglie ovvero un frammento di una sua veste ed è quindi ancora oggigiorno un luogo di culto non solo ha un'importanza storica quindi ma anche un luogo di raccoglimento proprio in nome e il ricordo di di questo grande personaggio per concludere un po questo breve ma spero vi sia piaciuto percorso tra le colline del feletto voglio raccontarvi una cosa ovvero durante un'udienza ufficiale che avvenne proprio all'interno del vaticano papa giovanni ventitresimo parlando appunto del suo periodo trascorso qui nel felettano disse che ne conservava un soave ricordo grazie a tutti grazie a tutti